Sono Luigi Vernieri, direttore dell'Istituto Europeo di Design di Roma, Dipartimento Scuola Artivisive. Sono qui al DEG per presentare Viedram, che è un festival internazionale di motion graphic e video design. Abbiamo presentato qui un estratto dell'ultima edizione del festival, quella del 2008, all'interno di questa piattaforma che raccoglie la sperimentazione in ambito audio e video. Vengono selezionati da tutto il mondo i migliori lavori che hanno un forte impatto in termini di estetica e di collegamento con il suono. Abbiamo presentato oggi all'interno di questa manifestazione 3 dei 25 video selezionati nell'ultima edizione del festival.